Noi siamo del centro sperimentale ed abbiamo perseguitato... Complimenti per il tuo premio alla sceneggiatura, avremmo voluto vederti naturalmente tra le regie, ma come hai vissuto questo premio? È stato molto emozionante perché veramente non lo sai fino all'ultimo e lo sai quando ti chiamano e questa non è una cosa che ti... per cui non hai la lucidità di dire tutto quello che vorresti dire. Il lavoro di scrittura è stato tanto importante per questo film? Beh penso di sì, anche perché poi era un film tratto da una storia vera e quindi è sempre molto difficile perché devi inventare e al tempo stesso hai una verità da rispettare. Avete preso tanti premi, il suono, che altro? Quattro, abbiamo preso quattro David, trucco, parrucco, suono e il mio. Perfetto, complimenti. Grazie. Sul centro, insomma devo tutto al centro sperimentale, ho imparato tutto lì e quindi... Quali due maestri ti sono stati? Dunque io ci ho avuto Segre, Zagarrio, ci ho avuto Risi, ci ho avuto Virzi e ci ho avuto... Basta sì questi, benvenuti, insomma sì. Grazie. Grazie. Grazie a voi, complimenti. Grazie, ciao. Ciao.